Che fate? Ma io le cazzine Vabbè, ma io gli ho detto... No, io gli ho detto... No, io gli ho detto... Ma soccato che chiamano tu padre Ma io gli ho detto... No, non è per niente Non è per niente Non è per dire? C'è adesso Io te volevo bere da te quando c'era i 15 anni No, no, io lo volevo E' rispettoso Mamma mia, io l'ho fatto il collegio Io l'ho fatto quattro anni in cui l'ho detto E' uscito mai Non mi sono uscito mai E' la giura Sto mettiamo il fattore? Bello così è più bello Andai Sono pronti di cuci così? Sì A parte... I bottoni Mi mani che gli bottoni Ma non c'è sempre di me Capito? Capito? Hai visto il film Robocop G? No Robocop, Marti, ti ricordi di Robocop? Eeeh, qual'era? Ecco un lago... E' un uomo 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 Quella è una battuta E' un uomo E' un uomo Mi mani che mi parla è un film è un film? ok grazie Fuggili ucraini! Mettetevi se vogliamo fare un po' un cazzo! Dai Diego! C'è anche il ceci, un ex bugile! Un ex bugile! Una volta combattevo pure io! Mi chiedo! Andare a giocare! Sì! Sto volendo! Sì! Sto volendo! 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 E' troppo lontano qua. E' troppo lontano qua. Ma di che ci mancherete? E' per l'altro che aspetta con la casa. E' questa qua, no? E' un comodo, però... Tutti quanti vestivano, un po' di acqua. Via, sciolto, sciolto. Via, sciolto, sciolto. E' un po' di questione, e? grazie